ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video mi è stato richiesto di fare un video dedicato ai miei regali di compleanno ed eccoli qua allora iniziamo con la bellissima bambolina della trudi che rappresenta alice nel paese delle meraviglie e tutta di stoffa col suo vestitino celeste grembiolino ovviamente il coniglietto bianco il bianconiglio di alice e questo splendido faccino con le guanciate rosa i capelli ovviamente biondi con il fiocchetto rosso davvero bellissima poi ovviamente della trudi si sa che cose sono sempre molto belle primo regalo ok poi abbiamo il tempo in questo qua e le tre poni del quarantesimo anniversario perché i poni sono nati nel 1983 che quest'anno compiono 40 anni questo è bebel con il corpo celeste i capelli fucsia e le stelline sia di qua che di qua porta questa criniera alla testa si gira io l'ho messo così perché mi piace di più sembra che mi guardi molto molto carino poi abbiamo questa bellissima lol omg della nuova collezione lei si chiama bublegum e bellissima perché tutta colorata allora alle scappette da ginnastica con i calzettoni questa bellissima minigonna e questa magliettina con il pancino da fuori in mano su questi occhiali a forma di cuore porta questi super orecchini il viso è bellissimo rossetto fucsia ombretto colorato portegodini un po alla sailor moon alla kibiusa forse perciò che mi piace anche questa capigliatura un po tra la kibiusa e la sailor moon i capelli rosa con delle fasce colorate abbiamo il giallo fosforescente e questo un verdino poi in testa anche questi fiocchetti davvero fantastica mi piace davvero molto questa nuova lol per i fan delle lol o m g la consiglio perché davvero fantastica bellissima ok e per ultimo abbiamo questa stupenda lampada la lampada di stranger things allora qui abbiamo la scritta stringenti ma attenzione se la giriamo andiamo nel sotto sopra ed in blu bellissima a varie funzionali a questa è la prima poi la seconda è così con le lucine all'interno che si spengono e si accendono molto leggermente abbiamo ovviamente sia sulla scritta stranger things che sulla scritta sotto sopra giriamo la lampada e andiamo dei demogorgoni poi abbiamo un'altra funzione che è così le luci a intermittenza e così si spegne ok spero che il mio video dei regali di compleanno vi sia piaciuto vi mando un bacione alla prossima ciao ciao